Ciao a tutti ragazzi bentornati Oggi abbiamo il contest dei 13.000 iscritti Sigla Ok Non ridere Chiudi l'audio No Non mi avrai vivo Ok Eccoci qui ragazzi come potete vedere Ho già in un contest di 13.000 iscritti Voglio ringraziarvi a tutti quanti Quindi un bacione a tutti quanti 13.000 siete davvero magnifici Andiamo subito a vedere le regole per partecipare a questo contest Le regole per partecipare a questo contest Sono sostanzialmente le solite Quindi mettere mi piace a questo video Dovete essere iscritti al mio canale Se non siete iscritti iscrivetevi qui Dovete mettere mi piace alla mia pagina facebook Link in descrizione Per vincere dovete commentare con più commenti possibili Quanti ne volete Con qualunque parola, lettere a caso Con qualunque cosa L'importante è che dobbiamo arrivare a quota 85.000 commenti Quando arriveremo a 85.000 commenti Il contest finirà e verranno sorteggiati 3 vincitori I vincitori verranno sorteggiati tramite un sito random Tra tutti quanti i commenti Il vincitore del terzo posto vincerà La bellezza di 15 minuti in hangout privato con me o Skype Nei quali potrà chiedermi qualunque cosa Qualunque spiegazione, qualunque effetto magico A sua scelta Il secondo vincerà la bellezza di 30 minuti In hangout privato con me o Skype Nei quali potrà chiedermi qualunque cosa Il primo vincitore invece Vincerà la bellezza di un mazzo Monarchs Ok, spedito direttamente da me E mezz'ora di hangout privato con me Voglio ringraziarvi ancora Siete davvero fantastici Davvero mitici Un bacione a tutti quanti Ci vediamo in un prossimo Ciao